L'azienda ospedaliere universitaria di Sassari ha aperto un nuovo centro vaccinale. Da ieri gli ambulatori per la vaccinazione anti-covid-19 si sono spostati nell'area del centro didattico situata sul retro del Palazzo Clemente al primo sottopiano. Grazie alla collaborazione con l'Ateneo Turritano che ha messo a disposizione i locali, il centro vaccinale potrà disporre di un'ampia sala d'attesa al coperto, di un'ampia sala d'osservazione post-vaccino, quindi sino a sei punti vaccinali che possono essere implementati a seconda delle necessità. Con il nuovo centro la U garantirà un'area di attesa più confortevole. Resta sempre valido l'invito a rispettare gli orari di convocazione per evitare gli assembramenti. Attualmente i medici della U stanno vaccinando pazienti fragili e soggetti ultra 65 anni inviati dal CUP regionale. L'apertura del nuovo hub vaccini della U inoltre si rende necessaria anche per garantire una migliore assistenza in vista della somministrazione delle seconde dosi che interesserà un alto numero di utenti. A partire dal 14 maggio infatti saranno interessati gli operatori del 118, il personale delle forze dell'ordine, il personale dell'Università di Sassari e gli studenti tirocinanti che operano nelle strutture ospedaliere dell'azienda di Viale San Pietro. L'accesso al hub sarà consentito a piedi sempre in Viale San Pietro proprio di fronte alla clinica medica. Gli utenti per la loro sicurezza potranno percorrere il marciapiede sino all'area vaccinazione. Inoltre l'utenza potrà servirsi dell'area parcheggi della O con l'ingresso da Viale San Pietro o del parcheggio pubblico adiacente con ingresso da Via delle Conce. Al momento, infine, al piano terra della palazzina clinica medica resteranno soltanto l'ambulatorio per la preparazione delle dosi dei vaccini e la struttura amministrativa di registrazione delle vaccinazioni. Ottimizzare la gestione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale popolare, prevedendo le modalità per rispettare al meglio i criteri di legge sui metri quadri per ogni inquilino e in base a questo poter anche chiedere un cambio dell'alloggio di cui si è già in possesso agli uffici del settore politiche abitative. È lo scopo del regolamento presentato ieri in consiglio comunale dall'assessore Antonello Sassu, che ha colto l'occasione per ringraziare il dirigente del settore e i funzionari che materialmente lo hanno elaborato e approvato all'unanimità dall'Assemblea. Con il regolamento sul piano di attuazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Comune si dota di uno strumento giuridico che, in soli 12 articoli, dettaglia le modalità dei procedimenti per la mobilità previsti dalla legge regionale 13 del 6 aprile 1989. Un documento che ora dà agli inquilini la possibilità di chiedere agli uffici dell'assessorato delle politiche abitative un cambio dell'alloggio in loro possesso. Nel tempo, infatti, e per ragioni diverse, i nuclei familiari si sono modificati nella loro composizione, creando per molti l'esigenza di avere a disposizione degli immobili con una maggiore o minore superficie abitativa. Anche questa, definita dalla legge, è che evita il sovraffollamento o il sottoutilizzo del patrimonio ERP. Sarà possibile rispondere a queste esigenze attraverso una semplice richiesta di scambio consensuale tra due inquilini diversi che, in accordo, scambiano l'alloggio che occupano. Inoltre, l'assessorato predisporrà un bando sempre aperto che accoglierà le richieste di scambio che saranno soddisfatte quando si liberano i mobili delle dimensioni richieste. Il piano delle mobilità sarà aggiornato semestralmente in entrambi i casi. Comunque, i richiedenti dovranno essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e con le quote accessorie. Il documento, così come disposto dal titolo quarto della legge 13, prevede anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli inquilini. Nonostante gli effetti del covid nel primo trimestre dell'anno, il tessuto imprenditoriale del nord Sardegna tiene. I dati della fine del mese scorso, oltre un anno dall'inizio della pandemia, portano a 314 il saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese del territorio, le certezze dello scenario economico tra attese sull'evoluzione della pandemia e prospettive di rilancio legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR hanno influito a livello nazionale, ma stando all'analisi locale pare non abbiano compromesso il sistema delle imprese del nord. E quanto emerge dall'istantanea della Camera di Commercio di Sassari attraverso il suo ufficio studi sui dati relativi alla natalità e mortalità delle imprese italiane nel primo trimestre 2021. Il nord Sardegna si piazza al primo posto con un tasso di crescita dello 0,57%, una cifra ben al di sopra del dato nazionale dello 0,08%. In Sardegna, oltre a Sassari, Nuoro con 0,23% e Cagliari con lo 0,13% si attestano in territorio positivo, solo Ristano segnala un meno 0,10%, un dato che stride rispetto all'andamento generale dell'economia ancora sotto gli effetti della pandemia, ma non solo. Storicamente il primo trimestre non è stato mai o quasi mai caratterizzato da performance da ricordare. Sul territorio di competenza della Camera di Commercio di Sassari sono stati presenti a fine marzo. Il 32% delle imprese attive regionali nel primo trimestre 2020, circa il 40% delle nuove attività, trovano spazio nel nord Sardegna, partecipando con 314 attività alla formazione del consistente saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio dell'isola. La contrazione delle cancellazioni in contemporanea con la crescita delle nuove iscrizioni ha permesso al tessuto imprenditoriale del nord Sardegna di generare il miglior tasso di crescita rispetto a tutti gli altri territori isolani analizzati. Le iscrizioni tra gennaio e marzo sono state pari a 1.066, 2.679 globalmente in Sardegna, su un totale a nord di 55.046 imprese registrate, di contro 752 le cessazioni. Tra le forme giuridiche a fare un deciso salto in avanti le società di capitali con un saldo positivo pari a 197 unità, pressoché inalterato con 82 iscrizioni e 81 cessazioni, l'ambito relativo alle società di persone è nuovamente positivo il saldo rispetto alle ditte individuali, con più 108. Sul fronte occupazionale di conto si registra un calo deciso. Il numero degli addetti nei primi tre mesi del 2021 su base regionale ha individuato una contrazione di 491 unità dall'inizio dell'anno. Nel saldo totale il caldo è dovuto in buona misura dalle performance in affanno piegate dalla pandemia delle imprese del territorio di Sassari nel comparto turistico, ovvero quelle attività di alloggio e ristorazione incardinate nel sistema economico del nord Sardegna, intenuta solo il primario con agricoltura, silvicoltura e pesca. Può capitare che in passaggi di difficile lettura come questo i numeri definiscano un panorama dai tratti contrastanti, tiene a specificare il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. Infatti, se è vero da un lato che il saldo relativo all'andamento delle imprese è positivo e rappresenta uno spiraglio di luce che fa un ben sperare in prospettiva, non possiamo non notare il cono d'ombra che avvolge l'ambito occupazionale legato a doppio filo con la crisi che ha coinvolto il turismo al terziario dei servizi in genere. Alghero tiene ancora a banco la questione Punta Giglio ad interessarsi della faccenda. Anche il loro parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dino Gianrusso, che evidenzia come la bellezza dell'aria, seppur segnata negli anni da attività militari, sia un luogo di assoluto pregio in Sardegna. I dubbi sono tutti sulla questione relativa al progetto che prevederebbe la costruzione di un albergo con piscina, con numerose criticità per la protezione della fauna. Ciao a tutti, vorrei parlarvi oggi di Punta Giglio. Punta Giglio si trova in Sardegna, è un luogo meraviglioso, è un promontorio calcareo che insieme a Capocaccia racchiude la baia di Portoconte ed è compreso nel territorio dell'area marina naturale protetta che si chiama appunto Capocaccia, isola piana. Era stata una base antiaerea, ci sono ancora resti di caserme, di strutture posizionamento dei cannoni, chiaramente come molti luoghi della Sardegna era strategico per la difesa del territorio, ma oggi Punta Giglio è un'area di pregio proprio tutelata dal piano paesaggistico regionale e quindi dai vincoli conseguenze all'essere una zona SIC e una zona ZPS. Ora, l'Agenzia del Demanio, grazie a una iniziativa, secondo me benemerica, che si chiamava cammini e percorsi, ha messo a bando il restauro e la funzionalizzazione dell'ex batteria SR numero 413, per farla breve, mette al bando il recupero per il riuso di beni pubblici, questo bando di questa zona che era in parte appunto non in buone condizioni. Questo bando viene giudicato dalla società cooperativa che si chiama Il Quinto Elemento. Poi però veniamo a scoprire, e ringrazio i cittadini e gli attivisti della zona che mi hanno avvisato di questo, perché quando abbiamo buoni rapporti con le persone che stanno sul territorio scopriamo più facilmente le cose, noi rappresentanti delle istituzioni, mi avvisano che questa società cooperativa ha vinto il bando con un progetto che prevede la realizzazione di un ristorante con 100 coperti, con vista sul golf, un albergo con stanze triple, quadruple, con un massimo di 26 ospiti, una piscina con 3 metri di profondità, eccetera, eccetera, che in teoria sarebbe la vasca di raccolta dell'acqua piovana, ma poi sarà una piscina che verrà usata dai turisti. Pare che l'Agenzia del Demanio non si sia accorta evidentemente che su Punta del Giglio ci sono importanti vincoli ambientali e culturali e pare che ci siano due pareri opposti, quello del servizio a valutazione in patti e incidenze ambientali dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che esprime giudizio positivo, mi lascia un po' perplesso su questo intervento, invece quello dell'ISPRA, l'Istituto Superiore della Protazione e Ricerca Ambientale, solleva tantissimi dubbi legati alla presenza di avifauna marina e costiera nell'area interessata, insomma, perché è una zona unica al mondo a protezione speciale, l'area di Capocaccia. Quindi noi, come rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle, abbiamo il dovere di intervenire e chiedere la sospensione di questi lavori, chiedere verifiche, voglio che si proceda con opportune verifiche di compatibilità di questi interventi proposti, rispetto a un contesto di riferimento particolarissimo, ripeto, che è caratterizzato dalla presenza di di vincoli di tutela paesaggistica, tutela ambientale, tutela della fauna locale. Dobbiamo fare luce su questo iter autorizzativo, che a mio parere è quantomeno discutibile con problemi di trasparenza, di ambiguità, con delle contraddizioni che rischiano di compromettere per l'ennesima volta una parte, e quindi poi il futuro di quella parte di territorio sardo, meraviglioso, selvaggio, ma che non è degradato, è selvaggio perché deve rimanere tale, perché determinati animali, determinati abitanti spontanei di quella parte devono essere tutelati. La natura ha conquistato i suoi spazi, come in altri luoghi della Sardegna, prima che l'uomo in alcuni casi li valorizzasse, in altri casi li distruggesse, perché ci sono state valorizzazioni che apprezziamo e valorizzazioni che tutto sono state forché valorizzazioni. Oggi abbiamo un paesaggio meraviglioso nella zona di Capocaccia e non dobbiamo in alcun modo distruggere, non dobbiamo devastarlo. Abbiamo necessità di interventi, sì di valorizzazione, ma non di speculazione senza fine, speculazione edilizia, e non di quel tipo di turismo mordi e fuggi che già esiste in altre parti della Sardegna. Ecco, una parte così bella come quella di Punta Giglio, come tutto il comprensore di Capocaccia, non va rovinato. Mi batterò in tutte le sedi affinché si faccia chiarezza su questo, perché non possiamo accettare che per l'ennesima volta una parte così bella della nostra Sardegna venga sacrificata a determinate speculazioni che, a mio parere, con la protezione del territorio non hanno davvero nulla a che fare. Castelsardo, nove assunzioni di personale comunale da occupare per una spesa annua di 103 mila euro, cofinanziamenti regionali per la redazione del piano urbanistico comunale per 45 mila euro, ma anche la redazione del piano di utilizzo per i litorali e l'adeguamento al piano paesaggistico per cui la RAS ha stanziato 60 mila euro, uno stanziamento comunale di ben 170 mila euro per il piano delle manutenzioni e la conferma di tutti i servizi del settore sociale. Vista l'attuale situazione mondiale di emergenza sanitaria, economica e sociale, non abbiamo aumentato le tasse comunali, sottolinea il sindaco Antonio Capula. Avremmo voluto poter fare di più per non pesare sulle famiglie che, sempre più frequentemente, si rivolgono agli uffici dei servizi sociali. Viene confermata, infatti, per l'anno 2021 la liquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in ragione dello 0,7%, inferiore al limite massimo previsto dalla legge, lo 0,8%. Ridotta da questa amministrazione già dallo scorso anno, anche le tariffe della nuova IMU saranno le stesse applicate lo scorso anno, se non sono cambiate le proprietà immobiliari. Nessuna variazione di importo, quindi, rispetto al 2020, salvo le categorie esentate dal pagamento della prima rata, come disposto dalla legge di bilancio dello Stato per il 2021, quali per esempio le categorie alberghiere, gli stabilimenti termali o firistici e le discoteche. Andranno invece deliberate entro giugno 2021 le tariffe tari, ma vengono già da ora previste agevolazioni per le attività alberghiere, che nello scorso esercizio, pur non avendo subito la chiusura in base di PCM e di contenimento del Covid, non hanno di fatto potuto lavorare a causa dell'assenza dei turisti, nei mesi compresi tra marzo e giugno 2020. L'onere da sostenere è posto a totale carico del bilancio comunale ed è pari al 15% di agevolazione, dopo la riduzione del 15% per tutte le utenze domestiche e le attività con codice a tecco interessate dalla chiusura, effettuata già dallo scorso anno. Diversi contributi per le associazioni di volontariato, che hanno dato un grande apporto alla cittadinanza, soprattutto nell'ultimo anno di emergenza sanitaria, come la Compagnia Baracellare, la Locale Protezione Civile, CVSM, ma anche all'Associazione Animalista per il contenimento del fenomeno del randagismo Zampette Felici. Particolarmente attesi i contributi per la manutenzione degli impianti sportivi, mentre prenderanno vita diversi lavori pubblici, grazie ai fondi che arriveranno dopo la giudicazione di bandi e finanziamenti, come quelli per l'edilizia scolastica, provenienti dal Ministero dell'Istruzione o i fondi del Ministero dell'Interno per la progettazione e la messa in sicurezza del costone del quartiere Salvino. In arrivo anche i contributi della Regione Sardegna per la pulizia dei corsi d'acqua e per le calamità naturali e per i progetti per disoccupati, lavoras e forestas. Verrà inoltre realizzata a breve l'isola ecologica al porto, grazie alla vittoria di un bando regionale e grazie ad un contributo del Ministero dell'Interno per opere di efficientamento energetico. Vedranno nuova luce e numerose vie di pubblica illuminazione dopo gli interventi dello scorso anno effettuati nella frazione di Rubagno. Processione Martiri Turitani in onda sulla nostra emittente sabato e domenica alle ore 13 e alle ore 21. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari ha aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biegno verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina facebook liceo artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sssd02006.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo! Pillole di benessere. Conduce Maria Paola Cabizza. In onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18 e 30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20 e 45. L'istituto tecnico industriale Angiù di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo. Datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serale di tiangioi.altervista.org o la pagina facebook corso serale di Tiangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioi.gmail.com. Visita il sito web www.ilandsardinia.it. L'agenda digitale è tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. Tg informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15 e 30, dalle 19 alle 20 e 45. Ultima edizione dalle 23 e 30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre. Grazie a tutti.